Ci sono condizioni escludenti che non permettono allo Stato di sviluppare la proposta progettuale di ampliamento delle vasche della discaricata in pazzo. Emerge dal parere rilasciato a fine dicembre dalla Commissione Tecnica Specialistica che ha analizzato la documentazione inoltrata dagli uffici di impianti SRR, la società in house della SRR4 che gestisce il sito di conferimento. Il parere è stato pubblicato e il Dipartimento regionale ambiente ha definito il decreto a conclusione della fase della conferenza di servizi. L'iter preliminare era stato attivato lo scorso anno dai responsabili di impianti nella prospettiva di arrivare al provvedimento autorizzativo unico. Dalla disamina condotta, secondo gli esperti e la Commissione, è evidente un contrasto con il piano regionale dei rifiuti che non consente progetti di nuova realizzazione o di ampliamento in aree vincolate che ricadono sotto classificazioni urbanistiche come quella agricola. L'intera zona dove già sorge il sito di Timpazzo è inquadrata come E1 Verde Agricolo e rientra nella ZPS Torre di Manfria, Biviere e Piana di Gela, oltre che nella classificazione di tutela IBBA, Biviere e Piana di Gela. Nel parere ancora si richiede di colmare delle mancanze documentali a partire dalla necessità di uno studio di impatto ambientale. La proposta sviluppata da impianti prevede la realizzazione di due vasche denominate GEF nella piattaforma integrata e già attiva alla vasca E, mentre sono ormai sature e dismesse quelle AB e CD in carico adatto CL2 in liquidazione. Le due nuove vasche sulla scorta dei dati forniti consentirebbero di aumentare la capacità bancabile fino ad un totale di 2 milioni di metri cubi. Per la commissione tecnica ancora bisogna disporre di analisi dettagliate sull'effetto cumulo legato alla presenza sul territorio di altri siti del ciclo dei rifiuti e non solo. Soprattutto l'aspetto dei vincoli ambientali di tutela della zona secondo i componenti della commissione deve essere affrontato da impianti. Si chiede come il proponente intende superare questa criticità e riportato negli atti pubblicati. Lo studio di impatto ambientale, qualora potessero essere esanate le criticità più stringenti, dovrà a sua volta riportare elementi specifici incentrati anzitutto sulle ricadute ambientali, sull'asetto idrogeologico e sulle compensazioni. Tra i punti deboli infine l'assenza di soluzioni alternative a quella di timpazzo.